Pena ridotta in appello per sei persone imputate nel processo scaturito dall'inchiesta antimafia Gallodoro dei Carabinieri, con cui venne fatta luce sull'attività delle cosche mafiose del Vallone e sui rapporti di queste ultime con la mafia grigentina, mentre per altri otto i giudici di secondo grado hanno emesso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Associazione mafiosa, estorsione e singoli episodi di spaccio le accuse contestate a vario titolo agli imputati. La pena più alta, sei anni e due mesi, è stata inflitta a Francesco Pollara, 42 anni, originario di Palermo. Ridotta da 13 anni e due mesi, a 5 anni e 6 mesi, la pena per Claudio Rino Di Leo, 61 anni, considerato dagli inquirenti il reggente della famiglia mafiosa di Campofranco. Inflitti due anni e dieci mesi, rispetto ai sei anni e otto mesi del primo grado, a Domenico Avarello, 41 anni, di Canicattì. Condannato a due anni e un mese, rispetto ai tre anni e dieci mesi del primo grado, Filippo Cacciatore, 59 anni, di Cammarata. Pena di un anno e due mesi per Vincenzo Scalzo, 48 anni, di San Cataldo, che in primo grado si era visto infliggere due anni e otto mesi. E infine, un anno e due mesi, la pena per Giovanni Siragusa, 39 anni, di San Cataldo, rispetto alla condanna di un anno e sei mesi del primo grado.